Ragazzi buongiorno, ci troviamo da Game Store. Praticamente pur essendo poche boss in malattia riusciamo a fare i suoi acquisti. Adesso partecipiamo alla promozione che è arrivata da GameStop. Prenderemo 5 di questi pacchetti. Ecco la promozione di Umbreon. Ciao a tutti! Ragazzi come avete potuto vedere ho mandato Mamma Boss a fare delle spese da parte mia. E quindi raga abbiamo ottenuto pur restando a casa il nostro bellissimo Umbreon di Ossidiana di GameStop. E raga questa è una bella carta che sicuramente andrò ad aggiungere al mio Master Set. Ma soprattutto 5 pacchettini. Andiamo ad aprircene uno. Codice, trick da uno e andiamo. Allora energia, lui, Raiorn, Carnivine, Riolu, Electivire, Girachi, Lapras, Alcremi, Girachi. Uh bellissimo! Greninja, Iex. Guardate i prossimi acquisti di Mamma Boss. Ciao raga!